La notizia della morte dell'orso Joan Carrito ha destato grande emozione nella regione Abruzzo, ma questa mattina dalla lettura dei giornali scopriamo di un fatto ugualmente grave che riguarda ancora una volta la tutela del mondo animale. Parliamo del sequestro preventivo disposto dalla procura di Pescara del canile sanitario che si trova a Città Sant'Angelo. Non conosco gli atti e i documenti che hanno portato a questo sequestro e di solito non parlo prima di avere conoscenza, però qui ci troviamo di fronte a un canile sanitario, cioè un servizio pubblico che merita di avere una funzionalità immediata, nonostante che la scelta del dottor Polidoro tranquillizzi un po' tutti noi perché conosciamo naturalmente questo dirigente medico dell'ASL di Pescara. Però noi oggi vogliamo chiedere al direttore generale dell'ASL di nominare immediatamente un responsabile, di farci sapere quali saranno i medici che saranno a disposizione per le sterilizzazioni, ma soprattutto per la cura costante e le medicazioni dei cuccioli e degli altri animali che sono ricoverati presso il sanitario di Città Sant'Angelo che serve tutta l'ASL di Pescara. Se si tratta di un sequestro preventivo e anche dalla lettura dei giornali dobbiamo presumere che i medici coinvolti non potranno entrare ai medici, naturalmente facciamo gli auguri perché tutto si risolva e perché si accerti la verità e nel caso naturalmente che le accuse trovino fondamento si provveda anche a erogare delle sanzioni molto severe. Non vogliamo entrare nel merito del processo, non conosciamo gli atti, ma sicuramente dobbiamo appellarci perché il canile sanitario trovi immediatamente funzionalità. Ripeto, è un canile sanitario che serve tutta la provincia, è un servizio sanitario essenziale, ci sono degli animali ricoverati, vogliamo sapere chi oggi si occuperà da un punto di vista medico di questi animali.